A Porta Empedocla insorta ancora una volta l'ennesima la vertenza degli operatori ecologici a causa del mancato pagamento di alcuni arretrati. I netturbini hanno manifestato innanzi all'isola ecologica Empedoclina. Ascoltiamo le loro ragioni. Ascoltiamo le loro ragioni. C'è qualche collega che ancora aspetta addirittura il mese di agosto del 2016, quindi ti lascio immaginare la situazione. È vero che c'è il dissesto al comune, però ci sono altri comuni in cui gli stipendi vengono pagati quasi regolarmente, nonostante il dissesto. Noi abbiamo famiglie e bambini a cui dare da mangiare. Il lavoro con la differenziata è triplicato, per non dire quadriplicato. Mi sembra giusto almeno avere delle risposte chiare e prendere almeno qualche mensilità che ci consenta di vivere normalmente e civilmente come tutte le famiglie siciliane.